e ben tutti ragazzi sono lucafer 99 e oggi siamo su brawl stars con martins saluta oggi siamo nella sfida del torneo e vabbè e ragazzi ora metteremo pronto ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale pollice una lì in su e campanellina ok adesso andiamo spero che non ho messo la bomba incendiare che sono fregato ok vai ora poi per ci può stare anche però pure edgar è vero edgar è vero edgar pure potremmo mettere vabbè fa niente prendi mattino a posto oddio attenzione toglietemi da la no matti ma maglia ti ho visto e ti ho visto ragazzi sul mio canale ogni mercoledì ogni settimana troverete una soppetona e mancano quattro giorni non so poi luca quando pubblicherà questo video comunque c'è un'ottima fk era per un motivo logico ora basta che non mettila e la torretta si binari anche perché a volte accade boom tante bombette per te beh colpisci colpisci bravo 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 aia matti scappa matti devo distruggere il tank ok ti difendo matti nasconditi eccolo che però non mi non male che ha preso la gemma perché se non eravamo fregati a posto prima partita andato signori gg 300 tokens a casa a posto così sicuramente possiamo comparativo non solo a scuola signora lega 200 monete e anche la mega casso Vediamo Si skip Oddio Oddio Uh la star power di Nita telesoccorso Questo è buono raga Ho completato Nita a parte per il suo gadget Pelliccio sintetica Raga minchia Buono raga Buonissimo però uso comunque sempre La star power Che dà le zampate veloci Luca Devo dire una cosa Allora Quando abbiamo finito L'azienda del torneo Con tutti quanti I token che ho Non me ne frega Non credo che ne avremo pochi Mi vado a scioccare Tutte le megacarte che saranno nello shop Ah perché ci sono Perché non l'ho visto Perché non sono andato fino Le hanno rimesse Ah apposta allora Allora pure le voglio andare a prendere Tutte quante Però spero che ti pareremo A tipo 3200 Buono No era buonissimo Il gadget di studio La nazione Apposta bombette Per tutti signori Apposta 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 Ahia Non ne avremo Non è apposta Beh l'importante Che dobbiamo Cioè l'importante Che vinciamo Ma questo Però perché dobbiamo avere uno Stui squadra Spiegatemelo Vai Ma ti vai Vai dentro Che non ci penso io Qui Ma ti vai Passa Ci penso io Che è tanto Se si mettono in fila Tanto sono fregati Guarda Pum Oppela Attenzione Non c'è Quello Che gemme Apposta Matti 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 Ci penso io Al dynamite Oddio Allontanatevi dal bullo Che madonna Ragazzi Mille Vabbè Dai Raga Vinta pure questa qua Festa Festa CG Minchia Buono Buono Fate vedere Allora Io in teoria Ne ho Mille e dieci Raga A posto A mille Me ne posso Comprare Una E invece A tre Allora Forse a tre Mille Non so Se ci arriva Arriviamo Però A mille Cioè A mille Ciccino Sicuramente Si Ti vedete Sì Il torneo Qui Ah Che c'entrano Quattro Scene A posto Allora Se Ricercati Quella Con tutti Quanti Ci spughi Tu Metti Bull E io Metto Oppure Metto Tara Perché Con il Suo Gadget E Tutto Quanto Buono In che senso Boh Visto Che siamo In due Non c'è Un Kerz No Mi è caduto il telefono da mano Però Comunché A caso Mi ha cliccato Il tasto Per lo sparo Non andò bene Perché c'è Byron Raga Byron Ma 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 Si era curata Comunque Non c'è una Gemma Che ne sono Avviste In H2 Eh Ragazzi Questa qua Questi qua Sono forti Matti Perché Frank Scusa Non lo potevi mettere Magari In foot Brawl Madonna Quel Frank L'amico Oh Madonna Cosa ho fatto Cosa ho fatto Ma Ti fa troppo male Pam Ok Grazie Mi devo un secondino Curare io A posto Un'andata Oddio No Byron No Byron Eh Matti Basta che non mori tu Matti 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 Non push Matti 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 Non andare Matti Ci penso io Raga No Invece Non ci Eh ragazzi Ho bisogno Che questa qua Sia persa Sapete Non lo so Eh bro Sì No 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 Sì Grande Frank Grande Frank Vai Guarda che ci hai fatto Prendere tempo Cioè Prendere Non perdere Matti Non gliene Devi far prendere Neanche una Guarda No Mi ha scioltato Non è andata Pucciola Perché se morite Mi ho perso Perché poi si Ecco qua Infatti Devo uccidere Quello Stu A posto Ragazzi Pensa una partita Frank Perché si mette A sparare a caso Spiegatemelo Nooo Nooo Vabbè ragazzi Prima è persa Però abbiamo trovato Un bot Cioè Ma tu Non si è neanche ricaricato La super Una volta Ma vi rendete conto Comunque Ragazzi Con la sete di potere Bisogna inizierà a potenziare I brawler Oltre al set Perché così Se bloccate Se bloccate tanti gadget Che poi vi serviranno Anche nelle Sete di potere Quindi magari dopo Mi andrò a potenziare Qualche brawler Ok Allora Ti troviamo In squadra Eh Sandy È utile Perché Quando sa la super Almeno Non ci vedono Però poi sparano a caso Perché Eh minchia Però corvo con le tossine E però Poi corvo con le tossine Se poi Sandy Mette la super Mentre siamo Mentre siamo Avvelenati Non è proprio Una buonissima idea Però vabbè Non si può mai Sapere Ok Brava Brava Non brava Brava Oh Dio Attenzione Io sono pensato Che Sandy Era femmina E poi scopro No Ma sai che Attenzione Senti 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 Scappa via Ti prego No Ti puoi Se push Io mi arrabbio È morto corvo Vai Prendi tutto Prova Mi prendi a me Prova Mi prendi a me Non in te Scappa 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 Vai dietro Vai dietro Vai dietro Che corvo È pericoloso Attento Beh vabbè Matti Matti Scappa Matti Matti Bravo Sandy Bravo Matti Prendi quella gemma Scappa Matti Matti Non devi mai più pushare Dobbiamo proteggere noi Ok Ok bravissimo Sandy Con il gadget Allora I letto Giù me la posso prendere Ok Yes Vai Un attimo Allora Che seconda Mi piace ora Di cercare Allora Dattemi vedere la mappa Fai vedere la mappa Allora Questa qua Allora Piper Ci devi mettere Ok Io ci shopperlo Dopo alla fine del video Dannazione Tu metti Piper Metti Piper Che starpa Eh fammelo attimo vedere Aspetta Date Aspetta 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 Fammi vedere la star power Inboscata No Ok In forma Bro Metti la seconda Bro Metti la seconda Metti la seconda Perché Perché non ci sono Tanti Che spugli In quella mappa Quindi non è che Proprio Cioè Poi Poi magari Se perdiamo La prima partita Così Allora Va bene Metti Quell'altra Non è che Io ho messo Nita Che Perché con L'orso Farà veramente Dei casini Però pure Penny è buona Ok Ma adesso Io ho fatto male La stu È anche buona Però Oh Ma si chiama Prosciutto Wow Ora io Solo ora L'ho notato Pure io E vediamo Le bombe incendiarie Tannazione Attenzione Eugenio Aiaia Ma quanto Fa male Ok Abbiamo capito Dopo Si deve Mettere Penny Che forse Nita Non è Una delle Migliori Idee Sai Ma io Non mi sono Neanche Ricaricato La super Una volta Vai Prosciutto Non è Possibile Dove è il Raxor Quello contro Rx No Quello del pentolaio Non è il Raxor Ok 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 Allora Ho ucciso Una bro Raga Non sto andando bene Raga Devo buttare L'orso Vai Bravo Con il grab Bravo Con il grab Attenzione Vabbè Che super Butta Ok Abbiamo capito Allora Io devo cambiare Le bro Le arti Invece Metti La prima Star power Va Mi sa che mi metto Penico Le bombe incendiarie Senta che chiamarti Brock forse No Ma non Oh Se la raspettassero Non mi dicevo Raga Manca Una Ne manca una Se perdiamo Alla fine Quindi matti Tu metti Ok Invece Metto penico Una seconda Aspettate Ok Seconda A posto Vai Ma la titola Dei giocare A bene Tu magari Mettiti Nel cespuglio Dove prima Stava Eugenio Quindi quello Lai in alto A destra Più o meno Tipo Questo qui Questo E inizia E inizia un pochino Oh Ora già 3 a 3 Eh vabbè 3 a 3 No 3 a 5 In realtà E' vero Pure rindio Potevo mettere Però mi sono Dimenticato Buono Ok Padù Allora Io e te C'è Io e il mio Mortaio Che trovo Troppo forte Il mio Mortaio Perché Causa un Bottoli Da anni Guarda Vai Dai che stiamo a vincere Dai che stiamo Ai 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 Se ne è scappata Attenzione Nel frattempo Il mortaio Nessuno lo sta andando A distruggere Nonostante E qualcosa Che in realtà Li sta uccidendo Oddio Attenzione Non fategli Prendere il power up Ok Gliel'abbiamo fatto Sprecare Vabbè Lì Le power up Vabbè Aia Ma lo sei proprio per far male Però con la star power Bravissima No aspettate Mortaio Vai Ci penso io Ti ripiazzo Attenzione Matti Matti Ma ci stai Ci stai facendo Edgar Via Edgar Acuccia Oddio No 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 Edgar 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 Non morire Madò Edgar Se mori Ti ammazzo Edgar Se mori Ti ammazzo Edgar Edgar Mori 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 Ring Mori Ring Ok grazie mille Che culo Che culo Che culo Matti Matti Non morire Matti 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 Oddio Ma dai Ma dai Ma non è possibile Ma va a cagare Ma chi se ne fottere Del family friend Li vanno a cagare Ma fa un culo Oh Emote E cassa brawl Che fa a cagare Ok Ragazzi Siamo tutti Finalmente Pure la doppia gettoni Buoni 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 Finalmente Si potenzia studio Il livello Ma fa niente Ok ragazzi Il video Finisce qui Spero che vi sia piaciuto E noi ci vediamo Un prossimo video Ciao Ciao